Grazie particolare, vi segui... Scusate, andiamo? Perfetto, siamo in diretta. Allora, Padova Pride Village, siamo in compagnia di Lolita e di Cristiano che ci spiedono i loro prodotti. Lolita, vai, noi diamo una palestra a un club di mille... Abbiamo anche un servizio di personal trainer, con personal trainer molto qualificati. Magno 51, è premesso il parcheggio di... Sabato e domenica dalle 9 alle 19, Corso del Popolo numero 10 a Padova. Corso del Popolo numero 10 a Padova, con godissima la sessione dei freddi. Grazie a trovarti, Padova Pride Village e a trovarti. Grazie!